E' viva il mondo voi della brianza, ciao ragazzi, bravo, e viva l'Inter allora eh, ok, ciao ragazzi, salutate il pubblico, salutate il pubblico, salutate il pubblico, forza, fate i bravi, correte con la testa, respitevamo la popolazione, facciamoci anche delle maglie, regnare, tenete la loro, è un molto piacere, salutiamo anche i due concordi, in carica, sempre, sono dedicato alla loro brianza della brianza, dalla prima edizione, la edizione 2018, ecco qui qua, sono trattissimo, è meglio, ok, è sempre un momento particolare, vi ringrazio di sentire l'applauso del pubblico, però anche perché voglio essere in fondo, via! Grazie, 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 grazie. Grazie, grazie, grazie.